Comandante Ruffini, un'operazione complessa su vasta scala, la Capitaneria di Imperi e la Guardia Costiera agito in tutto il territorio imperiese, nella costa da Ventimiglia Cervo, ma anche in provincia di Pavia, in provincia di Cuneo, vostre zone di competenza. Controlli sulla filiera della pesca, vuol dire sì, vedere eventuali illeciti amministrativi, ma vedere anche il rispetto delle norme che riguardano la salute di noi consumatori? Sì, anche quest'anno, come tutti gli altri anni, su input del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie, il compartimento marittimo di Imperias, con il coordinamento della Direzione Marittima di Genova, possono essere un'attività di vigilanza su tutta la filiera della pesca. Questo perché è avvenuto a dicembre? Perché a dicembre si intensificano i consumi di prodotti ittici, quindi nell'interesse e a tutela dei consumatori, quindi del cittadino, il compartimento marittimo di Imperia, quindi la Capitaneria di Imperia, l'ufficio circondareale di Sanremo e gli altri uffici marittimi, quindi Ventimiglia, Bordighera, Armaditaggia, Riva Santo Stefano e Dianomarina, hanno svolto un'attività di controllo, sia sui ristoranti che sulle pescherie, che sui centri di grande distribuzione, per verificare il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di pesca. E quindi alla fine a tutela del consumatore proprio. Oltre tre centri controlli ci sono state anche quattro denunce, perché degli leciti sono stati commessi, in linea generale però è stata importante l'opera di prevenzione, è anche un'opera che avete fatto con le associazioni di categoria prima ancora di cominciare i controlli. Sì, questo è un aspetto molto importante al quale noi teniamo. Si è svolto il 15 dicembre un incontro con i rappresentanti della Confcommercio e Confesercenti e anche del Consorzio Peschereccio di Oneglia per ancora una volta illustrare e eventualmente chiarire la portata delle norme in materia che sono complesse e che però comunque vanno rispettate e soprattutto fatte rispettare. Grazie. 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 Grazie.